Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con 28 voti favorevoli e 11 contrari il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione e fanghi di depurazione del servizio idrico integrato e della proposta di piano bonifiche aree inquinate. Saranno così salvi i fondi europei e l'infrazione scongiurata. Restano le contestate discariche Martucci e Corigliano d'Otranto, ma con l'obiettivo di chiuderle entro il 2025, quindi due anni prima del previsto. Quest'ultimo punto è passato con il voto contrario delle opposizioni, che invece avrebbero voluto la chiusura immediata. La seduta di Consiglio, infatti, cominciata nella tarda mattinetta di ieri, è stata segnata proprio dal tema delle discariche, in particolare da Martucci, a metà strada tra Mola di Bari e Conversano. Proprio su questo sito, già sequestrato in passato nel corso di un'inchiesta della magistratura, non è stato trovato un luogo alternativo. Contro la riapertura di Martucci prevista dal piano, si sono schierate le comunità di Conversano, Rutigliano, Mola di Bari e Polignano e alcuni manifestanti si sono fatti trovare all'esterno della sede del Consiglio. La discussione, che si è protratta per ore, ha visto anche numerosi emendamenti, specie da parte delle opposizioni, finché grazie ad una sospensione è stata trovata un'intesa. Tra gli emendamenti passati, uno per rinserire nel piano le distanze minime di tutela dai centri abitati e dai siti particolarmente sensibili. L'emendamento per stralciare i lotti, uno per consentire il monitoraggio e tre per consentire la chiusura di Martucci nel 2025, passa con i soli voti della maggioranza. Quanto a Corigliano, in Salento, si riapre previe nuove autorizzazioni tecniche ed è stato previsto che i rifiuti conferiti, oltre a subire una biostabilizzazione, saranno sottoposti a un processo di inertizzazione che permetterà di ridurre il rilascio di sostanze inquinanti. Alla fine il piano passa, ma con il voto contrario del centrodestra. Diciamo no ad un piano vecchio e superato, hanno detto i consiglieri di Fratelli d'Italia, con dati falsati e che riapre Martucci e Corigliano. Viene buttato fumo negli occhi da parte di quel Movimento 5 Stelle che tanto si era battuto contro Martucci. Per quattro anni le comunità si beccheranno la discarica e vengono prese in gire con un finto miglioramento del piano. Per questo il gruppo di Fratelli d'Italia ha suggerito all'assessore all'ambiente, Ana Grazia Maraschio, di procedere a una valutazione del danno sanitario per capire se la riattivazione può determinare, in termini epidemiologici, un peggioramento dello stato di salute e della qualità della vita di quella collettività.